Cambio al vertice della squadra mobile della questura aquilana, la dottoressa Roberta Cicchetti, aquilana doc, prende il posto del dottor Danilo Di Laura, trasferito a Roma con altri incarichi. Dal 2016 la Cicchetti è stata a capo della squadra mobile di Teramo, svolgendo importanti indagini, alcune delle quali con il coordinamento della procura distrittuale antimafia del capoluogo. Indagini su prostituzione, traffico di stupefacenti, usura, rapine e reati contro la pubblica amministrazione. Si è occupata spesso anche di violenza di genere nel corso della sua importante carriera, un curriculum di tutto rispetto per il vicequestore che torna a casa dopo tanti anni, in cui ha ricoperto incarichi prestigiosi con grandissima competenza. Sono aquilana, anche se manco dall'Aquila da diversi anni, chiaramente conosco il territorio, conosco la conformazione geografica e strutturale dell'Aquila, ovviamente incideremo su tutte quelle che sono le problematiche di sicurezza che ci sono in città, sul fronte sicurezza darò il mio contributo, le mie competenze professionali nell'ambito della polizia già giudiziaria sono maturate nel corso degli ultimi undici anni, gli ultimi sette le ho passati a Teramo come dirigente della squadra mobile, precedentemente ero stata quattro anni alla squadra mobile di Bologna e mi sento di dire che l'Aquila è un bene nazionale che va tutelato, per cui sono pronta a conoscere e ad approfondire quelle che sono le dinamiche di sicurezza che vanno garantite e ovviamente a ripristinare la sicurezza lì dove ci sono delle problematiche. Molto soddisfatto è il questore Enrico De Simone che ha avuto modo quando era questore di Teramo di avere la Cecchetti nella sua squadra, l'insediamento arriva in un momento molto particolare per la città in cui ci sono episodi di violenza giovanile, traffico di droga e furti perpetrati da persone che vengono da fuori, ma la Cecchetti metterà a disposizione tutta la sua competenza. L'arrivo della dottoressa Cecchetti è la ricomposizione di un tassello, di un puzzle molto importante che è quello organizzativo interno alla questura dell'Aquila, è un funzionario che ho avuto modo io direttamente da questore di Teramo, avendo le mie dipendenze, di testarne la professionalità e soprattutto l'impegno quotidiano che è quello che in questo momento occorre in una città come l'Aquila dove non bisogna abbassare la guardia anche se il numero dei reati non è elevato, però ci sono delle fenomenologie che sono collegate al traffico di stupefacenti da parte dei minori e soprattutto alla commissione di determinati reati predatori tra cui i furti che noi dobbiamo perseguire e dare risposte immediate.